Dopo anni di buio, di una crisi che sembrava senza fine, finalmente si intravede un barlume di luce in fondo al tunnel. Lo dicono i vertici della CNA provinciale, riuniti in conferenza questa mattina in un sito simbolico ed evocativo, come quello dei cantieri navali a Pesaro, che proprio per l'ingresso della nuova compagine societaria, ritornano a nuova vita dopo cinque anni di abbandono totale. Non si tratta di una vera inversione di tendenza, ma di una nuova fase di sviluppo economico che vede il settore delle costruzioni a fare da capofila, essendo ripartita l'edilizia e gli acquisti di case. Una fase che, come sottolinea il presidente Barilari, introduce un cauto ottimismo. Dopo tanti anni di discesa, di stagnazione, un anno che ci desse una risposta, la risposta che tanti attendevamo. Una risposta che ci aspettavamo anche nei numeri che avevamo in mano un anno fa, una risposta che era nelle cose. Quest'anno abbiamo avuto la risposta che ci aspettavamo. Il trend di crescita in termini di fatturato nella provincia di Peso Rubino segna un più 23%, con le costruzioni che incassano il più 35%. Come dicevamo, ma sorprese positive arrivano anche dal settore manifatturiero, soprattutto dalla meccanica con più 34% e dal mobile legno più 31% rispetto al medesimo periodo del 2014. Anche l'export può rappresentare per tante aziende un ammortizzatore naturale, se il mercato interno non riparte a dovere e se continuano congiunture positive come la flessione del dollaro e la diminuzione del costo del petrolio. Ed è per questo che la CNA guarda con attenzione ai mercati esteri per i propri associati e promuove iniziative all'estero ed in Italia che attirino l'attenzione dei mercati emergenti. Un'associazione che fa tanto e che ancora molto deve fare, si può sempre fare di più e meglio, ovviamente ci poniamo obiettivi sempre più importanti, ma noi ci siamo.